Sono cominciati i saldi e si attendono a Varese saldi con il botto. In particolare il grande afflusso di clienti è previsto per questo fine settimana. Nelle prime ore di apertura dei negozi con le grandi occasioni si sono registrati un gran numero di clienti ma solamente nei negozi monomarca o nei grandi store del centro. I saldi andranno avanti fino al 5 marzo e fino a questa data si potrà approfittare degli sconti su tutta la merce autunno e inverno. I commercianti del centro di Varese partono fiduciosi grazie agli affari che sono stati conclusi nel periodo natalizio.